Ieri sera, Conversano, ha ospitato grazie a Radio Norba, e l'amministrazione comunale, il duo Pop Zero Assoluto. Prima del loro concerto, si sono esibiti vari gruppi, e cantanti locali. Prima del loro concerto, si sono esibiti vari gruppi, e cantanti locali. Il sindaco Giuseppe Lodascio, ha ricordato quel terribile 7 giugno scorso, che ha visto il crollo delle due palazzine e la morte della famiglia Vitto, presidente in Olanda. Inoltre, ha dichiarato, ma oggi, dimostra di avere un cuore grande, esattamente come grande, e l'animo di tutti coloro che hanno collaborato, per la riuscita, di questa serata. Il grande cuore è quello che vedo da questo palco, che è qualcosa di straordinario, ve lo dico. Noi abbiamo dimostrato, stiamo dimostrando questa sera che abbiamo la forza di reagire, che questa città ce l'ha dentro la forza di fare grandi cose, e non si ferma di fronte alla tristezza di un destino e alla tristezza di un giorno. Questa città ha la capacità di reagire, ha la voglia di farlo, e ha questo tipo di reazione, quello che è sotto gli occhi nostri questa sera. Davvero straordinario. Grande conversante. E grandi coloro che hanno collaborato. Sono tantissimi. Voglio ringraziare anche la Caritas che collabora e che raccoglie le offerte. Fatele le offerte, perché così avrà un senso questa serata. E voglio ringraziare la Proopo che sta collaborando, tutte le associazioni che hanno lavorato per questa serata. Voglio ringraziare il mio assessore Pasquale Sibile, che per motivi familiari non è qui, ma che ha lavorato tantissimo insieme a loro per la riuscita di questo straordinario evento. Davvero. E grazie a voi. Grazie davvero, perché siete grandi e siete meravigliosi su questo palco. Molto più di noi. Infine, è stato proiettato un video, realizzato da Rocco De Benedictis, organizzatore ancegli della serata e promotore del comitato civico Casal Nuovo. Al termine, i DJ di Radio Norba, hanno aperto il concerto tanto atteso degli Zero Assoluto. Il ricavato della serata, si sommerà a quella già esistente, grazie ai fondi regionali e comunali che serviranno alla ricostruzione delle case danneggiate e alle famiglie senza più la loro dimora fissa. Alla serata, tantissimi i fans, soprattutto giovani, che per assistere al concerto, si erano piazzati nella zona palco già dal primo pomeriggio. Il crodo, non si sono mai報o. Vediamo un po'. Il dietro bravi a cantare, uno si chiama Matteo. E altro si scusaatode. Allora vada le cerorganità, andiamo? Li chiamiamo? Sì, sì. Diamogli un voto. diamogli un voto 0 a 6 in caso da mi accendete le luci sul cubo e non ha te così me li vedo tu anche sul portazzo l'assù, buonasera anche qui al lato anche al lato è vero anche qui, buonasera allora ragazzi intanto vi esprimo la nostra felicità di stare qui questa sera ci ha chiamato Radio Nord per venire qua, ci ha spiegato il problema tra l'altro non avevamo letto, l'abbiamo visto al telegiornale e tutto quanto e siamo veramente onorati di poter insomma regalarvi un po' di tempo in musica tra l'altro noi in questo periodo siamo in studio chiusi quindi non siamo in turno, non stiamo facendo un bel niente però insomma venire qua ci ha fatto un bel niente gente che lavora, noi facciamo una come c'è quindi un bel niente però siamo veramente contenti di stare qui e poi vi prego di farvi un applauso gigantesco tra l'altro grazie ad Alan che ha detto questi ragazzi tifoci Alan Paglieri Alan ha detto allora è stato fatto un applauso così occasionale al nostro Enrico Sognato qui e anche a Marino Paolo alla mia sinistra ce la metteranno tutta buonasera ragazzi io non so quelle che sapete qui tocca cantarle è importantissimo ok per il momento così tanto che non sapete leggere scrivere tirate su le braccia tutti su su pronti prego maestro braccia sto aspettando le sombra in mezzo già mi sono asciuta guardando in mezzo mi sono postretto adesso la guardia mi sono andata a chi mi trovo nei ricordi di questa attenzione e io le becchia di questa attenzione da tutto già passato tutti te già mi sono andati siamo in conto mi metto al primo a infiggiare il ricco bianca il tuo sguardo che si accende il franno il sorriso e di ti bello ma tu mi vedi questa notte non ti sa se non ci fissiamo a comprare i mani ci vedessimo faccio per la prima volta io mi amore lei Ancora perdermi e perdermi, vuoi ritrovarmi, perditi, ritrovarti Ancora perdermi e perdermi, vuoi ritrovarmi, perditi, ritrovarti Se c'ha una cosa che ti piace, come apprendermi, è l'utile aspettare, sta scappando dentro a me Quando un po' che si scompe, dietro a pace, fosse solo la paura di tornare sempre E allora è vero che meglio, tanto tutto è già passato, tanto tutto è già ancora che siamo qui Ancora perdermi e perdermi e perdermi e ritrovarti, perditi, ritrovarti Tutti con le braccia, faccia, tutti su, faccia Ancora perdermi e perdermi e perdermi e perdermi e perdermi e perdermi e perdermi e்? Mai no億 Awstroke,ätzuka stoppimo, è il nostro mercato, eighth franzo insesto Preparatissimi! Questa era anche giunicella come canzone Ora, io ve lo dico subito ragazzi Ci saranno delle canzoni che ormai hanno già una certa età Che canteremo in qualche modo Ora, alcune magari le sapete, altre magari non le sapete Se non le sapete, ovvete comunque la piale Questa secondo me non la sanno Io ve lo dico perché c'ha una cittadina che è un po' vecchia Vediamo se la sapete Maestri Questa è un po' vecchia e non le sapete Questa è un po' vecchia e non le sapete Tu non devi restare più bene Per te Ho un po' di rarri e stare qui con te Questa è un po' vecchia e non le sapete Questa è un po' vecchia e non le sapete Il nostro dolce non fare niente La confusione è più libera e ci siamo Nella voglia e il calore che ci visce Tra una canzone e la giornata che finisce Ci si partiremo e tre e quattro anni Questa è un po' vecchia e non lo sapete Non vedi che stai diverso di te Appaglia di restare Appaglia di restare Appaglia di restare Appaglia di restare Ora, amici di Conversano, vi prego adesso di essere campioni del mondo di lagna per un istante Ora, al mio 3, suono la lagna, però proprio Ok? Perché se la fallo lì non si sente, quindi vi prego Allora, 3, 1, 2, 3 State erite troppo, però Allora, non c'è stata meraviglioso Mi prego, prego lei, prego Allora, 3, 1, 2, 3 Attenzione, attenzione, Enrico prego Prego domani Fate quello dopo, voce Andarkan, attenzione, Enrico prego I miei complimenti! Grazie.